Ciao a tutti, vediamo in questo video otto frasi che le persone manipolative usano per abbassarti l'autostima. Prima però di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termaschi ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, veniamo a queste frasi che tipicamente usano le persone manipolative per abbassarti l'autostima. Allora, una frase tipica è colpa tua, cioè tendono ad attribuirti la responsabilità delle cose. Altra frase, la seconda, sei insicuro. Arrogandosi il diritto di giudicarti. Poi ci sono dei ricatti vincolati in qualche modo. Non ti posso essere amico? Se. Non posso stare con te? Se. Non posso se. Quindi in questo modo cercano di vincolarti, di costringerti a fare delle cose che non vorresti fare. Poi, ad esempio, cercano di squalificare quello che fai. Eh, ma tu esageri sempre. Di non dare importanza a quello che fai. Oppure di convincerti che loro sono indispensabili. Tanto tu hai bisogno di me. Senza di me non puoi fare nulla. Negano l'evidenza. No, io questo non l'ho mai detto. Non dire io questa cosa qua non l'ho proprio mai detta. Ti attribuiscono delle responsabilità. Eh, tu hai fatto questo. Tu hai fatto quello. Tu, 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 tu. E infine, l'ottava frase tipica, ma non ultima, diciamo, per importanza, è quella di dirti dopo quello che ho fatto per te, tu ti comporti in questo modo. A parte che nessuno te l'aveva chiesto, diciamo, di fare questa cosa. Però utilizzano questa frase dopo che tu hai fatto, dopo che tutto quello che io ho fatto per te, tu adesso ti comporti così. E queste sono le frasi tipiche che utilizzano molto spesso le persone manipolative. E per abbassarti l'autostima e per condizionarti. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram. Massimo Terramaschi. Iscriviti al canale. Iscriviti al mio nuovo canale, Felicità Benessere, di cui ti posto. Il link è in descrizione. Ciao a tutti.